che promuova la salute. È l'obiettivo del progetto WHP di ATS Valpadana. Favorire comportamenti virtuosi sui luoghi di lavoro e rendere le imprese e ambienti più sostenibili in grado di migliorare il benessere delle persone e sostenere stili di vita sani tra i lavoratori. È l'obiettivo del progetto regionale WHP, Workplace Health Promotion. ATS Valpadana e App Industria Confimi Mantua hanno organizzato un incontro aperto alle aziende associate per presentare il programma. Quale strategia preventiva per migliorare la salute e il benessere nel contesto lavorativo? L'obiettivo del progetto è proprio quello di estendere la rete WHP. La rete WHP è una rete di aziende che promuove salute. Noi abbiamo l'opportunità oggi di essere in questa bellissima sede proprio perché c'è stato organizzato, c'è stato offerto una grande opportunità come ATS della Valpadana per fare conoscere questo progetto a tutte le aziende associate. È un progetto che promuove la salute e il benessere nei luoghi di lavoro, quindi un progetto che chiede la collaborazione e una stretta alleanza con il datore di lavoro per promuovere questo benessere all'interno delle aziende. Quindi un progetto finalizzato alla prevenzione delle malattie croniche sui lavoratori. Sicuramente è Mantova un territorio che risponde molto bene a questa attività. Sul territorio abbiamo già 56 aziende aderenti e ci auguriamo che oggi sia l'opportunità per concretizzare un ulteriore sviluppo di questa rete. Siamo fiduciosi proprio perché è un progetto che ricade sull'organizzazione dell'azienda ma che vuole appunto portare delle importanti tematiche di salute. Quindi noi interveniamo promuovendo stridità salutari come ad esempio la sana alimentazione, il contrasto alle dipendenze, ma anche il contrasto al gioco d'azzardo, la mobilità sostenibile e poi politiche anche orientate al contrasto al tabagismo. È un progetto che diciamo così su tutto il territorio ha avuto un grande successo, è promosso da Regione Lombardia e ci auguriamo quindi che oggi sia l'opportunità vera per estendere ulteriormente queste buone pratiche.